La terza sarà e formiche e rubore, sempre di putera, rappresenta la fatica che si fa durante una vita e poi arriva la morte a distruggere ciò che si è costruito. Anche questo è di putera. E così come ha spiegato la signora. Le fatiche finiscono a prova morte e formiche e rubore. Una murra di formiche, con stienti e con fatiche, che è nascita una razza, si avvieno fatto una casa. E dopo, piano piano, faticando una giornata, la vieno ginegrano per la pernata. Ma ieri, arancia satta, è passato nuvoe e senza dire ove, l'ha subissato. Ho gente che t'affanni, che tribuli e che danni, sempre pedoni e rasa per crescere una casa. Pensa che c'è nuvoe, dei chi li vuoi ciù forti, chi senza dire ove, distrugge tutto e la morte. Grazie. Grazie.